Ecco alcuni suggerimenti per migliorare l'immagine motoria. Ricordiamo che l'immagine motoria è la capacità di rappresentare il movimento, di immaginare il movimento senza eseguirlo effettivamente. E perché è importante l'immagine motoria? Beh, ricordiamo che è una delle proprietà cognitive che permettono il movimento. Ricordate c'è il movimento, come punta dell'iceberg, che dipende dalla stretta organizzazione cognitiva che risiede al di sotto. E uno dei processi cognitivi fondamentale per la genesi del movimento è la rappresentazione. Ora, la capacità di creare rappresentazioni ovviamente è un contenitore molto grande. L'immagine motoria fa parte di questa abilità. Quindi il movimento dipende anche dalla nostra abilità di rappresentare il corpo, di rappresentare lo spazio, di rappresentare il corpo in movimento nello spazio. E purtroppo dopo una lesione cerebrale, nel caso dei pazienti che hanno subito un ictus, questa abilità di rappresentazione viene alterata. Viene alterata di per sé, ma anche in conseguenza all'alterazione di tutti gli altri processi cognitivi. È difficile rappresentare il mio corpo e il mio corpo in movimento se ho un'alterata percezione, ho difficoltà di prestare attenzione, faccio fatica a ricordare le sensazioni del movimento. Insomma, è difficile avere delle alterazioni isolate dei processi cognitivi. È difficile rendersi conto di quanto sia alterata la capacità di creare delle rappresentazioni. Però il terapista è in grado di indagare quali sono queste alterazioni, sia dal comportamento del paziente, sia dal modo in cui descrive proprio queste rappresentazioni. E allora ci si può rendere conto che questa capacità di immaginarsi è incompleta, è deformata, è incoerente, è alterata. In definitiva questa immagine motoria è il progetto del movimento. E se ci sono tutte queste alterazioni, anche il movimento ne sarà influenzato. Allora, durante la terapia sicuramente il terapista sta utilizzando l'immagine motoria come uno strumento dell'esercizio. In questo modo allena il paziente a costruire delle rappresentazioni. Ora però in questo video mi piacerebbe che il paziente si sentisse anche, quindi non solo chiede di percepire o di eseguire determinati movimenti, ma anche di pianificarli, di progettarli. Motivato e disciplinato nel continuare questo allenamento anche al di fuori della terapia. E come fare? Facciamo qualche esempio. Banalmente stiamo a letto e ci stiamo riposando oppure ci stiamo preparando per la notte. Bene, in quel momento di quiete, in quel momento di silenzio e di buio, rivolgiamo la nostra attenzione al nostro corpo, a come è posizionato. Cerchiamo di raffigurare nella nostra mente la posizione di ogni segmento del nostro corpo. Non è per niente facile, richiede un certo sforzo. Poi una volta che abbiamo creato la nostra ipotesi della posizione del nostro corpo, andiamo a verificarla chiaramente. E lì ci possiamo rendere conto di alcuni errori e poi correggerli. O anche in altre situazioni, quando stiamo seduti a tavola o in altri contesti, seduti sul divano, senza guardare il nostro corpo. Cerchiamo di interrogarci. Ad esempio, io adesso sono seduto, ho i piedi posizionati a contatto con il pavimento e sono in relazione tra di loro. Cerchiamo di capire qual è il piede che sta più avanti, quale parte dei piedi sta toccando il pavimento, come sono ruotati. Cerchiamo di riaffigurarci la posizione non solo dei piedi ma anche delle ginocchia. Le gambe sono più o meno aperte, ce n'è una più aperta dell'altra. Cerchiamo di raffigurarci questa immagine e poi eventualmente andiamo a verificare. Lo stesso compito lo possiamo eseguire anche nei confronti degli arti superiori, della mano, del braccio. Anche se queste non erano immagini motorie a tutti gli effetti. Chiaro, erano delle immagini del corpo che contenevano delle sensazioni. Ma è il caso anche di allenarsi nell'immagine del movimento stesso. Ora è chiaro, io mi rivolgo a tutti i pazienti. Ci sono pazienti che hanno già dei movimenti avanzati, qualcuno sta facendo i primi movimenti e qualcuno invece quasi non ha nessun movimento. Ognuno declinerà questi suggerimenti alla propria condizione. Durante gli esercizi con i vostri terapisti, questi avranno portato sicuramente la vostra attenzione su alcuni risultati che avete raggiunto durante la terapia. Ad esempio, siete riusciti a rilassare una determinata parte del corpo presa nella morsa della spasticità. O a svolgere un movimento più fluido, più naturale. Movimenti che in genere avvengono in maniera generalizzata con più parti del corpo. Magari in terapia siete riusciti a farli in maniera più pulita. Ecco, queste sensazioni dovrebbero sedimentarsi nella vostra esperienza. E la responsabilità è proprio quella di mantenerle in vita, anche portandole al di fuori del contesto riabilitativo. e trascinandole nel quotidiano. Allora, durante gli esercizi, magari di riconoscimenti, di traiettorie, direzioni con l'arto superiore, abbiamo conseguito la capacità di sentire il braccio più leggero, più naturale. Una sensazione che durante la terapia ci ha gratificato anche. Non lasciamola nella palestra riabilitativa. Portiamola anche in altri contesti, magari associandola ad altre azioni. Magari ogni volta che ci alziamo dalla sedia, invece accade il contrario, che il braccio si mette rigido, o che quando camminiamo avviene la stessa cosa. Ecco, prima di svolgere questa azione, di alzarsi in piedi o di cominciare a fare qualche passo, proviamo a rappresentare il nostro corpo in movimento, includendo quel tipo di sensazione. Lì ci rendremo conto quanto è difficile pianificare il movimento mettendoci dentro le sensazioni. Ricordiamo che l'immagine motoria non è un'immagine visiva, non è che io mi guardo dal di fuori eseguire un'azione, come se mi guardassi in uno schermo televisivo. Devo essere protagonista dell'azione. È un'immagine dove io sento me stesso compiere quell'azione. E lo so che in molti mi dicono che racconto delle cose molto difficili. Me ne rendo conto. Però è proprio questo recupero da un ictus che è difficile. E bisogna mettere in piedi delle strategie che siano allo stesso livello di difficoltà. E mi dispiace pure dare una certa responsabilità al paziente che deve partecipare al proprio percorso di recupero. Però non vedo altre alternative. Il recupero non può avvenire dall'esterno. Allora il paziente dovrebbe cominciare un po' a studiarsi, quasi come se fosse una materia universitaria. E magari anche tenere un diario di quello che avviene durante la terapia, di quello che avviene durante la giornata. Questo potrebbe fissare alcuni miglioramenti, alcune difficoltà, stimolare il ragionamento su come superare alcuni ostacoli. Ecco, un suggerimento potrebbe essere proprio quello di segnarsi tutte le sensazioni positive e favorevoli che magari abbiamo vissuto in terapia o anche durante la giornata. In modo tale da avere una traccia anche per poterle riutilizzare, risfruttare, anche attraverso l'immagine motoria, durante altre azioni.